Benvenuti, amici spettatori, nel nostro viaggio nel cuore del Grande Fratello. Oggi vi sveleremo il motivo dietro l'inaspettata uscita di Beatrice Luzzi, un enigma che ha scosso la casa e i fan dello show. Non dimenticate di mettere un like e di iscrivervi al canale per non perdere nessun aggiornamento. La verità dietro il suo addio, cari amici, è tanto commovente quanto sorprendente. Le pagine social del Grande Fratello hanno lasciato tutti a bocca aperta. «Beatrice Luzzi ha abbandonato il gioco per motivi personali». Ma cosa nasconde questa vaga dichiarazione? Il cuore della questione è un evento familiare straziante. Il padre di Beatrice, il signor Luzzi, 86 anni, ha avuto un grave incidente. Un rapporto padre-figlia che abbiamo visto brillare anche durante la sua indimenticabile esibizione come Ornella Vanoni. Un tributo non solo alla cantante, ma soprattutto al suo adorato padre, grande fan di Vanoni. Pensateci, se foste stati nella casa. Come avreste reagito a una notizia così sconvolgente? E la storia si addentra ancora più in profondità. Beatrice, in un momento di pura emozione, ha condiviso ricordi teneri della sua infanzia e dell'incredibile legame con suo padre. Un mosaico di ricordi fatti di rigore, viaggi e avventure in mare, raccontati con parole intrise di nostalgia e amore. Mostrate il vostro supporto per Beatrice mettendo un like a questo video. Quindi, cari spettatori, la vicenda di Beatrice Luzzi ci insegna una lezione preziosa, nonostante la fama e il successo. La famiglia rimane il nostro rifugio sicuro, un legame inestimabile. Che cosa ne pensate voi? Lasciate i vostri pensieri nei commenti e iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati sul mondo del gossip. Se questa storia vi ha toccato il cuore, lasciate un like. Arrivederci e a presto con nuovi intriganti aggiornamenti.